Oggi siamo portati un po' avanti, siamo riusciti a sistemare il motore del C il secondo, la mattina presto e sta andando benissimo. Oggi abbiamo già fatto 150 km e siamo arrivati ad Alicante, quindi stasera riusciamo a fare altri 170 buoni e stiamo recuperando un po' di strada, siamo all'interno della nuova solestate, è un caldo incredibile. Buongiorno a tutti, allora mi trovo in questa officina a 100 km dal confine della Francia per entrare in Spagna, sto aspettando i ricambi della frizione e altri particolari che mi hanno danneggiato qui smontando, purtroppo succede anche questo. Allora la situazione è questa, sto aspettando i ricambi, ho detto e dopo parto più carico di prima verso Marrakesh, perché l'affetto che mi hanno manifestato alla partenza tutto il gruppo di piloti e dopo ho visto la solidarietà che c'è stata per lungo il percorso insomma per chi ha avuto problemi, chi no, chi eccetera, ecco fantastico, ecco un gruppo fantastico. Allora io partirò più carico di prima, ci vediamo a Marrakesh, bonjour e bon voyage a tout le monde, ragazzi forse non molliamo mai! Allora oggi ci è andato di lusso, è andato tutto benissimo, il motore che ho riparto stamattina è andato perfetto, abbiamo trovato un hotel con un parcheggio chiuso, perfetto, che non ci tocca niente a nessuno, l'unico piccolissimo in topo è quello di Michael che sta iniziando a scoppietare ma domani ci mettiamo a mano e vediamo un po' di risolverlo. oggi giornata liscia, almeno per una volta, adesso abbiamo fatto anche il conto dei tempi e alla fine avevamo contato un giorno in meno quindi possiamo prendercela anche un pochino più in relax, quindi siamo tranquilli oggi. ciao